NightDB1 il video è mio devi stare zitta il video è mio lasciami parlare questo è il nono episodio di leggo il signore dei nanelli ora raggiungerò la parte dei nane rotoli in compagnia ok e proseguiamo nella nostra avventura che dobbiamo seguire i gettoni fantasmi ricordiamo che Nene è una rincoglionita e non sa giocare quindi non è vero abbiate pietà di lei pietà 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 il problema è la puzza che mi distrae c'è il bordo ha letto di fare una scuola un scuola? sì sì vieni master che ci vuole salvare le cose non mi piace ok non mi piace non sei fai tutte le cose prima non mi piace rompi si ho visto che è andato lì è partito a maletta estrai la spada dove stai andando? stai qua pensavo di essere qua ok va bene lasciamo perdere estrai la padella che Sam non ha le spade qua dai non ti dico a me dai tieni punto B B con B ecco se puoi scegliere padella o qualcosa comunque e cucineremo andiamo avanti segui la oh cazzo ma noi moriremo per sempre no dobbiamo seguire la traccia marrone di merda chiara di piscia al massimo perchè gialla ecco ah perchè dà la traccia lui quindi ok perchè sono venute su delle fiamme vabbè porca verdi tra l'altro scavali intanto sto facendo super malmos potevi chiamarti così sul canale ho preso un secchio secchio mettilo lì mettilo lì cazzo ti pare ah tanto adesso se lo abbiamo tutti ci potrei usare un pozzo vai a prendere l'acqua nel pozzo ma ascolta mi lasci giocare brutto oh oh cazzo muori e dove devo andare? a spegnere le fiamme oh ok traccia marrone puoi mettere via sai che allora si fa fatica andare a muoverti eh non mi vero che faccia fatica ok restiamo caldi fino all'acqua non pira le spadate ok cazzo ah ok devi andare lì a prendere l'acqua ma va ma va fan chi urlo yeah con la del dragon senti fan non capisco perché no ma fa il culo per fortuna non ero capace io no perché sei andata avanti mi hai bloccato lo schermo e sono pure morto ma è stato il gollum perché tu sei andata avanti senza aspettarmi guarda che io sono Sam e io non mi fido del gollum ma sei tu che vuoi seguirlo perché ti fidi sciocco ma vuoi mettere via sto gara ah no però serve ancora va bene se mi dai una mano finiamo anche prima non credi si ma intanto io andavo avanti perché tanto tu non puoi fare mai niente ma se sto facendo le cose si ma in generale dopo lo prendiamo autentico guerriero 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 ascolta non faccio mai tempo a leggere quello che esce quindi non rompere la parte qui all'inizio mi hai unire cosa che ti lascia non hai approfondito per i giorni oltre che sono indietro le cose aspetta che arrivo vai vai perché questo bastardo non va avanti ok move move ma sembra che a te era col culo tu ragioni col culo e tu sei una faccia di culo quindi e cosa vuoi dire? ma è inutile che vai lì perché tu sei inutile no? ma e io? vuol dire che ce la fa qualcosa? eh lo so grazie aspetta no secondo me è di là ma va caglia che non si distruggono mai porca di qua per cosa faccio? vedi la spalla che tanto si chiara ah brava così può un pilaco mi sa che dove andare ah no no basta no no devi venire qua tu perché è andata via perché è andata via? sì ok what the fuck eh ma in effetti è tipo come in lego batman c'è molto di più questa cosa qua del fare le cose in combo no? cosa stai dicendo? no è vero cioè tipo che uno deve fare una cosa sì può essere ma rimane in lego ci è sempre stata questa cosa qua sì forse anche perché ma scusami scusa ma devi spegnere quelle fiamme lì a sinistra perché sull'idea le fiamme potrebbe esserci qualcosa di interessante ma dove? qua a sinistra ma io non ho perché sono annegato? perché sei andato in là no no sì ah no si sprofonda se stai fermo ah sì quello si aveva fatto eh ah rifermo foto sì non ti stavo parlando brava sempre così no comunque dare guarda che ci sono in giro night ci sono in giro anche per tutto il giro ha rivelato il mio nome oh mio anche tu come me me l'avrai rivelato perché ma ora andiamo go go aspetta ma quelle fiamme lì ma no sono così un po' di scena dai no 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 per tutti gli oggetti lego sono distruttibili quindi c'è sempre un perché ma io dove vado a prenderla ah là ma non ci arriverò mai no infatti perché vuol dire che c'è qualcosa da fare sembra un delfino ah qua forse cazzo cazzo oddio lì non si può ah aspetta ah no vieni qua vieni qua che tu c'è la fune forse ce l'ho anch'io aspetta aspetta se no lo faccio io no ce l'hai tu cosa devo fare qua c'è un rampino ahhh non l'avevo visto c'è un rampino e vai vai schiaccia b fai il banza boom ah pensavo che volassi di là anch'io vai 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 ok 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 fuori dal drago non posso uscire qua neppure dal drago poter un drago questo qua no è un dinosauro perché l'ultimo drago è stato sconfitto milioni di anni fa no no milioni centinaia di anni fa no ma magari è lo scheletro di quel drago lì sì certo nella palude che cazzo c'entra eh ma è sta moribondo ah sì vaffan giuro che se è così quelli della lego sono dei geni però è impossibile perché è molto più grande ma che cazzo te l'ha detto è verario è verario l'hanno progettato prima che uscisse il film sì ma dai in combo perché hanno già comprato anche i diritti dello hobbit non lo so sì sì ora l'ho detto io sul sito della lego ma dove cavolo ma perché stai tornando indietro no non vale fiamme sola dai stiamo perdendo un sacco di tempo io ti ho chiesto ma tu non mi rispondi ma dai no di qua come stai tornando lì ma no invece che è l'olio pieno ce l'hai vero sì dai vieni qua e metti e buttalo al solato ma non riesco ma che poi che stronzata scusate le fiamme dove c'è la è già l'acqua vabbè non ho mai capito perché lui poi non sprofonda perché non c'è i piedi palmati no è Gesù Gesù che camminerebbe sopra l'acqua sì ma è secondo me è legola legola secondo me sì legola se lo può fare c'è un film no 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 perché comunque cioè hai piedi leggeri oh a luce di ademil vai luce di ademil non so come cazzo si chiama ok monta poi adesso devi andare su cioè gancia il rampitare non è finito devi stare dentro con me no scherzato stronzata se non sai cose non parlare ci ho fatto una vita senti knight senti nene tra le puzzole no no non è grazie per essermi saltati in testa se morivo non muore subito non muore subito l'orsetto mi te l'ho detto che non ti devi fidare di Sam e di del Gollum non ce l'ho detto non ce l'ho detto non ce l'ho detto non ce l'ho detto adesso che fai cazzo shriek 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 no devi stare attenta perché lui fa così e ho visto adesso grazie non lo sapevo neanche e devo recuperarmi ah il mantello è elfico il mantello è elfico e mettitelo fico non mi vedi sono un ciaspuglio ma che cazzo devo mettere ah devo mettere dentro lì io ma vedi che è un bagno e non esco più eccolo dove ah l'ultima volta ero sicuro che era un bug l'ultima volta si vedevano solo i piedi neanche il ciaspuglio eh i miei miei cilio è l'unico posto in cui devo andare è lì perché se no mi vede andiamo andiamo aspetta ma tu non ce l'hai il mantello è elfico certo che ce l'hai non credo eh non hai provato neanche a fare il b no ah non ce l'hai davvero ma era logico ma adesso quando scendono la dirupe prima della torre nonostante io sia il protagonista mantello mantello arriva preni grazie ahaha fiatteva lì dietro non ti prende c'è non posto anche te non credo cazzo cazzo di giuda eh c'era anche di l'alalà sono sicura Vabbè No, non è detto Sì Perché non sono andata dietro Alle cose Vabbè, dai Se non crediamo guerriera autentico Anche poi non è scritto così Vabbè, di che a volte sembra un delfino Oh, ma tu c'è Ehi, ok, vai te Guarda Tu c'hai il mantello Comunfamento Sembra non c'è sbuglio Ma cosa Eh, ce l'ha ancora la scia forse Qua c'è una moneta blu Buttati poi fai A Subito, dai, dai Ma le hell è ha Alla ha, porca po' Vabbè, dai, 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 no Muoviti, devi scherzare Eh, devi nasconderti un attimo, Darius Sennò il Gollum non va avanti Guarda, ma sei stupido? Non ce l'ho fatto in più Vabbè, vabbè Non ce l'ho fatto ormai Muoviti Gollum di merda Ma sei tu che devi mettere il mantello Quando nessuno, non ci vede nessuno Allora il Gollum va avanti Non l'ha ancora capito? Ecco Ecco Visto Night è un po' ritardato Non possiamo pretendere Però Ma cosa stupido? Questa è io quella che non sono capace Qui c'è da una moneta viola Oh, è mio, è mio, è mio Ce n'è solo Mantello, subito, dai Toma, hai solo le cose da lontano? Sì, do Come sei carino Ok Cioè, non potevi andare direttamente là, no Perché vuoi farci rompere le cose? È fatta apposta Vai Ficci, ficci, ficci Ma Sarà, eh Ho fatto Dov'è il mio po' Cosa? Dove devo nascondermi? Dove? Where? Ah, devi illuminarmi Grazie Perché io ho paura Se no Ma 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 No Ah, che sono anche la corazza di Armir Vuoi vedere che te la spacco tutta No, non so se si chiama così Ma Ma che cazzo si chiamava la maglietta La maglia Ah, la magliettina di Fuada Intendi Intendi quella Ma Sai che mi arriva il drago Il drago Oh mio teo Il ninja go No, e poi le armi Sono anche mi attorno Aspetta, aspetta Ninja style qua Perché? Eh, perché non dobbiamo farci Sembrano dei piselli Questi cosi qua Guarda Guarda Guardi solo quelli te Ma vai a cagare Eh, qua ti serve la fune Oh, oh, una montata oro Ah no Che carina Montata oro vale solo 100 No, salta Ma mi dice di schiacciare B B Io ho schiacciato B Eh, devi arrivare Uè Vaffan Cagare Vaffan cagare No, no È una cosa sbagliata Dove devo andare? Di là Di là Come faccio? Ma che cazzo Tu vai di là Dondola Non riesce a dondolare? No Dai Guarda Non riesco Ah, forse così Ecco No, ma si stava per dondolare No, no Si dondolava Si girava e basta Ci sarà un tasto per dondolare Ecco qua i piselli No No Stai lì Stai lì Ho capito adesso Certo No, 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 no Devi star lì Perché? Mi ha avuto il ponte No, va vietando adesso Annego e schiacciò Ma stai rompendo un po' di cose te Ma che stai tirando avanti No, no Giura Ho un po' di Tita Mi sembrava la I piselli sono miei Miei piselli Ecco il delfino Cosa stai facendo Sei inutile Lo sai Io scavo Faccio il fuoco Prendo l'acqua Tu cosa sei qua a fare? Siamo che... E' già stato detto Questa cosa Sì ma è la prima volta Che gioco con te A questo gioco Non è vero Sì No È la prima volta Che Cazzo Tra le nuore di Marshmallow E gli unicorni Di velluto Gioco con te Non puoi mica vai di là Io voglio i piselli E prenditi sti piselli Anche poi i piselli non mi piacciono neanche C'è Quelli Oh Eeeh Anche i bambini Che guardano ste cose No Bambini Mangiate la verdura Perché fa bene Però a me non piacciono Tutto lì Va bene Detto niente Insignamenti di Melissa P Che è una nostra amica Sì Per i bambini E fu così Che nella protezione Per internet Misero il tuo canale Sulla lista dei Dei L'ingordante Vedi come sono tenero io Te Eeeh Cazzo di Perché Ah qua qua E dopo Sì no Questa Che cazzo Ma no devi pescare il pezzo Ah pesca Io c'ho la canna Sì Non ho la canna Ma io dove dovevo nascondermi Ma che posso entrare Sì dai Ma cazzo Ma perché Non faremo mai guerriero autentico L'abbiamo già fatto Ah Allora io vado su Scusami ma tu C'hai il mantello Di Ma perché non mi fa entrare Ma da Preciso Vaffanculo Ma Spirate Spirate un secondo Ma come Non ce l'abbiamo Poggio Mi sono incastrata Ah no ok Ma che bug Ti giuro Ero incastrata Ma perché muoio Se vado lì Perché è ripassato il drago E il 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 Stupida Io Si Oh Ah Che cosa Vogliata Che cosa 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 Da far notare che la pizza era spicchi ma loro la mangiavano intera. Si ma un pezzo di lego non puoi muovere. Ma qua è con gli elefanti. Gli olifanti non gli elefanti. Check. Ma non si impiantano neanche le frecce. Ok. Oddio! Cosa dobbiamo fare? Ma che cazzo? Cos'è che ho? Spada o arco? Vabbè siamo... Che cazzo io no? Tu fai qualcosa. Ecco distruggi quella cosa lì che... Sto iniziando a distruggere l'unica cosa che mi dimentico di fare. Ma io dovessi... Perché a me... Attenzione agli elefanti. Eh si ce n'è uno che c'è. Uhuh! Io mi sono appeso! Ah ah! Sono sull'elefante. Sì! Tu se ne passa uno anche di qua magari. Devi giallir su qualcosa lì poi passa fidati. Si so che puoi prenderle adesso te le do. Il combattimento in alto non rompere panni Non sta facendo niente C'è un cuore? E uno è fatto Ma aspetta 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 No non fare tutto perché ho visto che ci sono delle cose Anche da mirare Ok spero Cazzo 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 Ma perché? L'ora vado a vedere se c'è anche qualcosa da distruggere Ah lì c'è qualcosa da mirare Che viene su ogni tanto Eh voto sì E io c'è l'arco Non ho l'arco io Non hai l'arco? Eh no qua c'è qualcosa Oddio Vieni qua Non ce l'ho? Sei proprio inutile Vieni qua guarda che c'è lì che viene su ogni tanto Lo vedi? Questo è per salvare Proviamo Vai Cosa? Lì guardalo lì Nell'angolo Lì Ah Foto ma C'è che non me lo inquadro Anche qua Qua è per sempre Sì ma Ma va cagà A te Eh sì ci sono quelli che sono No non me lo mira No Ah ma guarda in parte Aspetta aspetta Forse c'è un altro No adesso me lo mira Pazzo Ok sono 5 dai 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 Sono un idiota avevo in mano alla corda Pensavo che mi entravi in automatico Devete faremi il culo però Dimmi dove Spassati 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 E' preso No Ma non possono unirci la schermata Ma vaffanculo Ma vaffanculo anche a te Arriva Aiuto Ero attaccata Oh l'ho preso L'ho preso Poto si devi attaccarti Però aspetta perché prima facciamo le cose Che no Vendoci dando un battoncino Sì dov'è che lo vedi Altri Eccolo là Che palle 3 di 5 Magari c'è qualcosa più avanti Sei lì in mezzo Ve lo stai prendendo Eccolo qua Ma 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 vaffanculo Sì ma davvero però Ma vaffanculo tronco Preso Li hai presi tutti i 5 Eh no 4 C'è un giro ancora uno E cos'è anche la cosa che stai andando lì sopra Andano lì Dove Lì Ma vacca Eh ma l'ho preso Che culo Che culo cosa È tutto culo Ma l'ho preso adesso Sì ok ma Ok adesso occupiamo Quello è lì Dell'olifanto È l'olifanto L'olifanto Saliamo sulla pianta Adesso arriverà lo strano Ah ma sulla pianta tu sali Prima sono salito sulla pianta No non mi fa più salire Cazzo di brauz Ah qua Ma te la si no? Sì ma non riuscivo a salire io prima Anzi mi ha ucciso A dire la verità Non è che non riuscivo a salire Sono riuscita Aspetta che arrivo Bastarda infame E poi? Cosa devo fare? Non fare questo Non fare questo Ah? 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 Ah non muore l'olifanto Ah no poverino Ah non so via Non ci sono E' da proprio fratello Faramir, Madril e basta Bene 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 Vogliamo notare quanto ero io e quanto era Knight Grazie, io che non ero capace poi Sciocco Io rompevo le cose e tu le prendevi Hai preso tutti i gettoni viola Eh, perché? Adesso abbiamo il secchio, la canna da pesca e il badine La canna da pesca ce l'avevamo anche io Sì Allora, dicevi che era assunto il pane, anche la padella No, la padella, no Non ci abbiamo Stiamo qua e vediamo Ok Ehm, niente Si conclude qua il nonno episodio Di Lego e Signore dei Annelli Sempre in compagnia di Di Nene tra le nuvole No, Nene tra le nuvole, si Mamma mia Ma non è finito il nome? Che cazzo il nome? Nene tra le nuvole di Marshmallow Gli Unicorni di Velluto Copyright di Ghillie666 Quello è il nome del canale Vabbè, comunque Comunque, vabbè Ehm Ricordate di mettere mi piace Se il video vi è piaciuto Iscrivetevi al mio canale E se volete anche quello di Nene Coro Nene Coro Cagare Di Nene tra le nuvole Ehm Nene Coro No, nessuno è diventata Un'altra persona Non fare pubblicità Ehm Iscrivetevi al mio canale Anche se al momento Non ha caricato niente Perché Ha appena iniziato anche lei A farla stupida Quindi Ehm Niente Da Nnedi B1 è tutto Da Sally tra le nuvole No Nene tra le nuvole Lei si inventa un nome E non sa manco lei com'è L'ho cambiata stasera Scusate Va bene Comunque Ciao a tutti ragazzi